Un urlo strozzato in gola per la volley Barletta che ha subito la reazione vemente della stravolle in gara 2 dei playoff, promozione del campionato di serie di femminile. Dopo la netta supremazia tra le muramiche e un 3-0 senza appello, domenica scorsa le ragazze di coach di Noia hanno alzato bagliera bianca in terra salentina. Risultato in fotocopia nella trasferta più lunga della stagione per la volley Barletta che in vista di gara 3 spera di recuperare il libero titolare Giorgia Curci. Ora la serie si sposta nuovamente all'ombra di Eraclio con le due squadre che si affronteranno nella cornice del liceo scientifico Carlo Caffiero domenica 9 giugno alle ore 18. Nessuna alternativa per la volley Barletta, gara 3 infatti sarà decisiva per la promozione in serie C e ogni punto sarà fondamentale per non vanificare gli sforzi di una stagione lunga ed estenuante. Con la compagine bianco-rossa capace di superare brillantemente sia la stagione regolare chiusa alle spalle della prima donna Bari con 35 punti all'attivo che la prima fase playoff. Ora però c'è una sottile linea rossa a separare l'inferno dal paradiso. La stravolley ha dimostrato di essere un avversario temibile. Servirà anche la spinta del pubblico di casa per staccare il pass per la serie C. Servirà anche la spinta del pubblico di casa per la serie C.